La linea 23 del trasporto locale di Cerveteri raddoppia. Per la corsa delle 14.10 arriva una seconda navetta al fine di agevolare il rientro a casa degli studenti che utilizzano i mezzi pubblici. Il bus infatti partirà dall'Istituto Enrico Mattei e avrà il capolinea Marina di Palo. In attesa che il plesso adotti l'orario definitivo per l'intero anno scolastico, dichiara l'assessore comunale Elena Gubetti, cerchiamo di venire incontro alle necessità di tantissimi ragazzi che ogni giorno prendono l'autobus per spostarsi da casa a scuola. Questo servizio, ha aggiunto il consigliere Andrea Mundula, rappresenta inoltre un'importante misura di sicurezza per tutti i viaggiatori. In questo modo si eviterà che nello stesso momento, cioè all'ora di uscita, attualmente uguale per tutti, la navetta normale sia super affollata e dunque pericolosa. Come amministrazione continueremo a lavorare affinché il trasporto pubblico continui ad essere un importante punto di riferimento per tutta la collettività, ha concluso Mundula.